Allora, io sono appunto Savino Dinoia, della cooperativa Uniser che sede a Bologna, specializzata in mobilità formativa ed educativa all'estero, quindi si rivolge sia agli enti di formazione, le scuole superiori, secondarie, università o mobilità lavorativa, quindi attraverso collaborazioni anche con i centri per l'impiego e gli italiani e stranieri. Oggi è il secondo appuntamento di cinque seminari sulla mobilità all'estero, oggi ci concentriamo sul lavoro in Europa. Eccoci qua. Partiamo veloci dai. Allora, facciamo un passo indietro, ovvero cosa c'è da considerare nel momento in cui decido o prendo in considerazione l'idea di effettuare esperienza lavorativa all'estero fuori dall'Italia, in questo caso ci concentriamo in Europa, in particolare nei paesi dell'Unione Europea o che hanno firmato l'accordo di Schengen e quindi all'interno dei quali abbiamo la possibilità in quanto cittadini europei di muoverci per appunto andare a cercare lavoro in maniera totalmente libera, ovvero soprattutto senza necessità di avere un visto o uno sponsor da parte di un'azienda nel paese di destinazione che ci possa permettere poi, o un contratto che ci possa permettere di arrivare poi sul posto di, sulla nazione di destinazione per poter lavorare. Un po' dinamico ovviamente che da quest'anno poi escluderà il Regno Unito a causa insomma dell'ultimo Brexit e se volete magari ne parliamo poi nel momento delle domande, visto che comunque è una delle destinazioni soprattutto a livello formativo e anche un po' lavorativo, più ricercato. Allora, quando mi muovo per un'opportunità lavorativa all'estero, innanzitutto devo essere ben consapevole di qual è il mio obiettivo personale, cioè sto cercando un'opportunità di lavoro all'estero perché? Per migliorare, qual è l'obiettivo principale? Chiaro, possono essere più di un motivo, però provare a capire qual è l'obiettivo principale che mi pongo, mi aiuta e mi facilita la ricerca, perché innanzitutto voglio andare a fare un'esperienza lavorativa all'estero soprattutto per migliorare le competenze linguistiche, quindi di conseguenza magari oppure per migliorare le competenze professionali, oppure per mettermi in gioco in un contesto multiculturale, oppure per fare un'esperienza di vita o per la tipologia di azienda. Cosa significa? Tendenzialmente quando cerco lavoro in generale queste componenti si mischiano, però inevitabilmente c'è una che è preponderante e questo dipende inevitabilmente da ciascuno di noi. Ad esempio se per me è più importante fare un'esperienza professionale, quindi nel mio settore soprattutto e nel ruolo o una tipologia di azienda specifica, allora in quel caso magari la destinazione geografica o la qualità del contesto che può stare intorno, inteso come città o aree più periferiche, che perde di senso e quindi magari la mia ricerca la oriente inevitabilmente su settori specifici. Al contrario se invece voglio fare un'esperienza all'estero che sia anche un'esperienza soprattutto di vita magari o che mi permetta comunque di migliorare le mie competenze linguistiche e se è necessario magari in un settore non necessariamente specifico o affine al mio, ma anche magari che si avvicini. Allora in quel caso la mia ricerca va più su un'area geografica specifica. Quindi le variabili su cui interrogarsi possono essere sicuramente queste. Maggiore la nostra flessibilità, chiaro, e migliori sono le nostre competenze. Sicuramente le opportunità aumentano. Quanto tempo ho in mente di star via? Nel senso non ho dei limiti di tempo o ce li ho? Nel senso posso partire per un'esperienza lavorativa e poi non si sa cosa succede a seconda se mi trovo bene o male nel contesto di vita o sociale o professionale? Posso anche rimanerci tutta la vita o tornare dopo un mese oppure devo inserire la mia esperienza di lavoro in un momento preciso? Sto studiando, ho bisogno di lavorare solamente nel periodo estivo oppure ho bisogno di iniziare dopo il conseguimento del titolo? Quindi a partire da un determinato momento? Tutte queste dinamiche influenzano la ricerca perché è chiaro un annuncio che io ho a disposizione ha tendenzialmente delle tempistiche più o meno brevi di copertura, di selezione, di raccolta candidatura e di selezione dei candidati. Quindi se io sto cercando lavoro da qui a sei mesi inevitabilmente la ricerca la devo calibrare, il periodo di ricerca in cui andarmi a muovere. E poi è chiaro c'è la ricerca sul posto, in un contesto come l'attuale magari alcune di queste dinamiche possono inevitabilmente subire delle variabili, però a parità del curriculum è chiaro che è una ricerca sul posto, maggiore opportunità di essere presa in considerazione. Poi ci sono dei profili, anzi dei settori professionali che assumono facilmente anche a distanza e probabilmente anche il fatto di essere in un contesto magari di emergenza sanitaria favorisce anche la dinamica di selezione a distanza per alcuni settori. Per altri la presenza sul posto è fondamentale, nel senso se io voglio fare un'esperienza estiva, voglio andare a fare, non lo so, anche il cameriere a Londra ormai insomma è un po' diverso, voglio andare a fare il cameriere a Berlino, inevitabilmente non sto a cercare lavoro a distanza, le opportunità sono sicuramente molto più basse ed è un personale di qualifica medio-bassa che si può cercare anche facilmente sul posto, facilmente sostituibile. In altri settori tendenzialmente più è specializzato il profilo che si cerca, inevitabilmente più è facile anche ottenere un colloquio a distanza, essere selezionati a distanza perché ovviamente il nucleo delle persone o dei candidati validi è più stretto, chiaro, e soprattutto per quei settori un po' più internazionali che poi vedremo, ci sono anche dei canali privilegiati. Le dinamiche della candidatura, qui si potrebbe aprire un gran capitolo, però inevitabilmente andiamo, tendenzialmente il materiale di candidatura, il curriculum e lettera, dove richiesta, vanno nella stessa lingua dell'annuncio che tendenzialmente è la lingua di lavoro, a meno che è chiaro, non è specificato diversamente nell'annuncio stesso. C'è che formato utilizzare, inviare o meno applicazioni linguistiche o no, per farla un po' breve, non esiste un formato specifico o perfetto per il curriculum, ci sono dei formati più adattabili a dei territori, l'Europass è sicuramente valido per chi si approccia alle prime compilazioni di curriculum, perché ha una buona mappatura di tutte le informazioni che potenzialmente possono entrare in un curriculum ed è facilmente leggibile, ma tenete a mente, insomma, il fatto di stare in massimo in due pagine a quattro e tenere una semplicità, insomma, una sintesi, una chiarezza di lettura, mettendovi sempre nei panni di chi sta leggendo, nella scelta dei termini o, chiaro, una corretta ortografia nella lingua di destinazione, però, quando descrivete il vostro curriculum, soprattutto nella lettera, descrivete le vostre motivazioni e le vostre competenze, mettetevi sempre nei panni di chi la sta leggendo e di che tipo di background o di informazioni può avere. Poi, se volete, torniamo nel momento delle domande ad approfondire questi aspetti, inevitabilmente per forza di questo andiamo un po' più rapidi in questo momento. Bisogna badare degli aspetti pratici, è chiaro, per quanto ci si muova in un contesto di libera mobilità dei lavoratori all'interno dei paesi dell'Unione Europea e di quelli aderenti a Schengen, inevitabilmente ci sono dei burocratici, quando vado a cercare lavoro sul posto, per esempio, inevitabilmente in alcuni casi, nella maggior parte dei casi, bisogno di registrarmi dal punto di vista fiscale per poter firmare un contratto di lavoro, fiscale e sanitario e nella maggior parte dei casi per poter incassare uno stipendio dovrò anche avere un conto corrente sul territorio nazionale. Quindi, organizzare tutti questi aspetti, prevederli, se vado anche in un paese che non è Schengen, ma ad esempio se oggi andassi nel Regno Unito, tutta la dinamica di ricerca del lavoro è completamente stravolta rispetto a come siamo abituati, ma richiederebbe un'organizzazione maggiore, anche solamente nella necessità di avere un visto. Fino a settembre dovrebbe essere valida poi la carta d'identità, ma comunque in futuro quello è l'aspetto burocratico. Quanto budget ho? Se vado a cercare lavoro sul posto, ma anche se parto con un contratto già firmato, ho bisogno inizialmente di fare un investimento, dovrò trovare un alloggio, dovrò anticipare dei costi, quindi anche da quel punto di vista la città o il paese dove vado influenza tanto. Non sarà lo stesso investimento iniziale se vado in Finlandia o se vado a lavorare in Polonia. Il colloquio inevitabilmente, per molti casi, si può fare anche un colloquio a distanza, sempre più usato, ma poi probabilmente ci verrà richiesto di andare di persona per effettivamente poi anche per l'eventuale firma del contratto. C'è anche la firma del contratto a distanza, sono sempre più utilizzate, ma il colloquio e l'organizzazione dell'eventuale colloquio sul posto, quindi il vitto viaggio alloggio, sono andate in mente non soltanto in una dinamica di budget, ma anche in una dinamica organizzativa. Destinazione. È chiaro che nella scelta di un paese di destinazione possono subentrare varie dinamiche personali. Da un punto di vista di competenze c'è la dinamica linguistico-geografica che influenza, quindi la lingua di lavoro, che può non necessariamente essere la lingua del posto di destinazione. Se vado a lavorare a Bruxelles, per esempio, probabilmente non mi viene richiesto il francese o tantomeno, ma chiaro, il lingua olandese. Però posso scegliere la destinazione in base al settore, perché ci sono alcune aree geografiche che sono più specializzate. E se a me interessa principalmente la ricerca, un'esperienza nel settore specifico, allora potrei essere influenzata la scelta geografica. Ho i tassi di disoccupazione, è chiaro. Mi interessa tantissimo andare a lavorare in Spagna, però inevitabilmente c'è un tasso di disoccupazione più alto nel settore che eventualmente mi interessa, e quindi potrei valutare le esperienze in un'altra area geografica, dove invece la possibilità di trovare lavoro è più ampia. E quindi ci sono i settori lavorativi che sono detti più internazionali. Ovvero, si intende quelle aree o quei settori o anche quei dipartimenti all'interno di una azienda stessa, in cui è più facile che ci lavorano dei non madrelingua, dei non residenti sul posto o delle persone che non si sono formate sul posto, perché legati ad attività cosiddette internazionali, ovvero che implicano una relazione con l'estero, con altri paesi, e di conseguenza prendono in considerazione anche competenze linguistiche diverse, di madrelingua, oltre a delle competenze ovviamente specifiche, settoriali. E ci sono quei settori invece in cui l'offerta lavorativa è talmente alta che inevitabilmente la domanda di un paese specifico non riesce a soddisfarla e quindi le aziende vanno a pescare più facilmente anche all'estero. Sono attualmente, come vedete, sono quelli un po' più richiesti, ovvero il settore informatico, di informazione e comunicazione e il settore tecnologico, tecnici specifici in vari ambiti, l'ambito ingegneristico, chiaro, sanitario, dal personale medico al paramedico, tutti quelli impiegati ovviamente lavorano in relazione alle lingue, per cui sono richieste competenze plurilinguistiche o in madrelingua diversi rispetto alla lingua del posto. Gli ambiti commerciali che implicano scambi con l'estero, quindi soprattutto, o che richiedono lavoro completamente in lingua inglese, a prescindere dall'area geografica dove si trova. Quindi finanza, vendite, commerciali, import-export, marketing, logistica soprattutto, e tutto quello che è internazionale, dalla cooperazione al terzo settore. Sono figure lavorative che inevitabilmente possono essere selezionate anche o c'è bisogno di competenze specifiche che sul posto non si trovano o numericamente non sono reperibili facilmente sul posto. Vi faccio vedere ad esempio il portale EURES, che poi magari analizzeremo con calma. Vi faccio vedere numericamente tutte le opportunità, rivolte anche ai non residenti sul posto, che passano attraverso i centri per gli impieghi pubblici, perché poi EURES è un'europea di centri per l'impiego pubblico. Come vedete ci sono i settori un po' che abbiamo appena detto, queste sono le opportunità che vedete in numerino, le opportunità attualmente a disposizione. Ci sono, dal punto di vista numerico, i settori di cui abbiamo parlato, ovviamente il sanitario, i tecnici, ingegneristico, edilizia, gli amministrativi, i tecnici spostati ancora, il manufacturing. E questi sono ovviamente dei profili, come potete vedere c'è il sanitario, commerciale, sanitario, amministrativo, tecnici, in questo caso è autisti, segretariale, insomma ancora sanitario. Insomma, si ritorna un po' quello che guardavamo prima e che vi faccio vedere adesso, ovvero i macro settori. Cosa significa? Che tutti gli altri settori ovviamente ci sono le opportunità, però numericamente ovviamente bisogna impegnarsi di più nella ricerca, perché evidentemente, per esempio prendiamo il settore culturale, evidentemente nella destinazione X la domanda di lavoro in ambito culturale è ampiamente soddisfatta dai lavoratori presenti sul posto e quindi più o meno difficilmente si va a prendere a pescare altrove, quindi la ricerca sul posto può essere sicuramente utile, o la richiesta di competenze specifiche che vado a trovare fuori dalla mia nazione è meno richiesta. Qui possiamo andare anche abbastanza veloci. Ci sono alcune professioni che inevitabilmente per essere esercitate all'estero hanno bisogno che la qualifica o il titolo sia riconosciuto. Per farla breve, sono quelle posizioni, quelle professioni regolamentali in cui c'è un albo, nella maggior parte dei casi, può essere per l'avvocato, per un medico, per un infermiere, o anche spesso un insegnante, un architetto, che per esercitare nella paese X la destinazione non può andare sul posto e semplicemente fare lo psicologo o mettersi a insegnare nella scuola pubblica, ma ha bisogno di essere riconosciuto il proprio titolo per poter poi esercitare l'ambito pubblico. Mentre per tutto il resto delle professioni, che sono poi l'80% di quello che resta, è ovviamente il datore di lavoro che decide che il nostro titolo e le nostre competenze siano idonei per quella posizione. C'è stato uno sforzo da parte del Parlamento e del Consiglio nel favorire questa reciproca comprensione e comparabilità tra le qualifiche prese nei vari paesi europei. Quindi già dal 2012 sul vostro titolo, qualora insomma abbiate il consiglio di titolo dopo il 12, è presente insomma un riferimento identificabile anche per un datore di lavoro o un'istituzione europea, quindi straniera non italiana, che permette di equiparare almeno a livello di macro riferimenti le tipologie di competenze che avete acquisito nel percorso formativo. C'è in fondo l'ENICNARI che è un ente che permette il riconoscimento ufficiale delle qualifiche dei titoli di studio negli altri paesi europei, c'è una sede in ogni paese, qualora magari abbia bisogno o fosse necessario per voi avere un riconoscimento di questo tipo, potete poi cercare la sede che poi, in questo caso è a Roma, ma la procedura si è fatta tranquillamente a distanza. Partiamo, andiamo un po' nel dettaglio. Come cerco lavoro a distanza, perché la ricerca su posto è tutto un altro capitolo. In questo caso, l'offerta web è molto ampia, c'è molta possibilità per tutti i settori, oltre al fatto che si può andare anche sui classici canali di ricerca web che sono utilizzati dalle persone che vivono sul posto, o non essendo noi sul posto. Il più classico, qui vedete delle macro tipologie di ricerca. Il più classico è il motore di ricerca. Ovviamente, se state cercando un lavoro in un paese X, il motore di ricerca da utilizzare è il motore di ricerca con il dominio del paese. Ad esempio, guardate questo qui, per l'Olanda. Cioè, indeed.com è più comuni, ce ne sono decine. Vi faccio vedere questo, per esempio, per l'Olanda. E ovviamente va sul dominio.nl e qui abbiamo messo una parola, ovviamente partiamo per scontato da un profilo classico, per esempio, non parliamo olandese, ma vogliamo andare a lavorare in Olanda. Vediamo se il nostro patrilingue italiano può essere utile. In questo caso è una ricerca fatta per competenza linguistica. e vediamo che opportunità ci sono. Metto le parole chiave in inglese, perché l'inglese è la competenza che io conosco. E guardiamo che poi andiamo in quei settori linguistici, in quei settori lavorativi, di cui abbiamo parlato anche un po' prima. Quindi, amministrazione vendite, servizio clienti, Settore bancario, servizio clienti, settore internazionale. Però l'importante è che quando facciamo la ricerca, utilizziamo un motore di ricerca locale, in modo tale che accediamo a opportunità che sono presenti sul posto e che vedono anche le persone che sono già sul posto. Possiamo cercare lavoro, in questo caso l'abbiamo calibrato per un profilo più vicino al vostro, ovvero da neolaureato, su portali specializzati. Ad esempio, un portale specializzato per lavoro, per figure che hanno da poco conseguito il titolo, da poco intendiamo, diciamo, sei dodici mesi o che lo consiglieranno a breve. Anche in questo caso ci rivolgiamo a un portale specializzato di lavoro, per figure di neolaureati, quindi andiamo da figura di assistant, può essere anche un po' di tirocino, ma soprattutto assistant junior, graduate job, per esempio questo è un esempio fatto in Spagna, siti specializzati in questo settore ce ne sono, e vedete sono opportunità, a volte a un determinato tipologia si può fare una scelta per lingua, o una scelta per seguito, o una scelta per profilo, o andando direttamente con parole chiave. Stessa dinamica, vi faccio vedere, possiamo andare invece a fare una ricerca per settore, se per me è importante andare a lavorare in un settore specifico, come dicevamo all'inizio, allora in quel caso ci sono dei portali specializzati per settore, magari contengono diverse aree geografiche, o si concentrano su un'unica nazione, ma sono sicuro che su quel portale io ho un unico settore lavorativo, diverse figure, diversi livelli, ma un unico settore lavorativo, ad esempio voglio lavorare nel settore farmaceutico in Europa, un portale di questo tipo, Europharma Jobs, è abbastanza comune, ha un'enormità di opportunità nell'industria farmaceutica, in varie nazioni, che vedete qua, ma l'industria farmaceutica poi comprende tutto, posso fare il commerciale, posso andare sulle politiche direttamente regolatorie, sulla qualità, su ricerca e sviluppo, sull'ambito medico, direttamente nella produzione, o nella ricerca, sono tutti profili all'interno del macro settore, in questo caso ho fatto una ricerca per settore, e vado su diverse aree geografiche, su diversi prodotti, vedete che qua trovate opportunità, in Danimarca, in Austria, in Belgio, ma tutte nel settore, farmaceutiche. Stesso discorso vale per questi siti, che vedete tra parecce, ne sono centinaia, io poi vi spiego anche in che modo, eventualmente, avere un supporto personalizzato, individuale, perché la ricerca del lavoro all'estero, è inevitabilmente influenzata, dalle dinamiche personali, di ciascuno di noi, così come abbiamo visto all'inizio, i vari fattori da prendere in considerazione, e c'è un supporto, che poi vedremo, si chiama Mobilizas, a cui potete accedere gratuitamente, e ricevere magari dei consigli, anche individuali, più personalizzati. Un'altra dinamica utile, alla ricerca del lavoro all'estero, è andare invece su portali di aree geografica, nel senso, a me è intesa lavorare, in una nazione specifica, o in una città anche specifica, poi vediamo cosa c'è in quell'area, se c'è anche un settore preciso per il mio profilo, va bene, insomma anche un settore affine va bene, l'importante è che vada lì, c'è per esempio, ad esempio, di startup jobs, è molto comune, queste sono tutte opportunità di lavoro a Berlino, ed è anche un po' settoriale, ovvero consente tutto l'interno di startup, ovvero aziende tendenzialmente in ambito digitale, digitale tecnologico, come dicevo, un settore in cui sono richieste molte persone, in cui si lavora tendenzialmente in inglese, perché inevitabilmente è trasnazionale, come tipologia di attività, ma potete vedere diversi settori, quindi siamo sicuri di finire a Berlino, tendenzialmente in lingua inglese, e andiamo su diversi settori, dal più tecnico informatico, sviluppo software, al commerciale, al marketing, a risorse umane, finanza, anche i tirocini, per esempio, se siete magari interessati a una primissima esperienza lavorativa, essendo a Berlino, potete trovare anche opportunità, inevitabilmente, se l'annuncio è scritto in tedesco, è perché richiedono magari, oltre all'inglese, una base di lingua tedesca, per esempio, in questo caso il tirocino, potete trovare però opportunità anche in lingua inglese. In questo caso quindi sono, dicevamo, portali che ci permettono di cercare lavoro in un'area specifica, in questo caso Berlino, o per esempio Jobs in Copenhagen, va direttamente nella capitale danese. Si può cercare lavoro, fine anche per competenza linguistica, cioè nel senso ci sono dei lavori dedicati, in questo caso essendo italiani, dedicati a madrelingua italiani. In questo caso, se qualcuno di voi magari, è sicuramente più facile questa tipologia di lavoro da cercare a distanza, perché è chiaro che se voglio andare in Polonia, e cercano madrelingua italiana, magari la gente lo può cercare anche direttamente in Italia, e quindi tutto il processo di selezione, colloquio, e anche firma e valutazione del contratto, e valutazione della candidatura, avviene tutto e più facilmente a distanza. Ad esempio, uno dei più classi, ce ne sono anche in questo caso decine, dipende poi dal settore specifico, per esempio TopLanguageJobs.com è molto utilizzato, il vantaggio è che posso scegliere l'opportunità di lavoro in base alla mia competenza linguistica, magari competenza linguistica di lavoro, nel senso se io riesco tranquillamente a lavorare in tedesco, posso andare a provare una ricerca per tedesco, o combinare la lingua, ad esempio in questo caso le più grandi ovviamente sono le lingue più richieste, questo in generale è un po' in ambito, dal punto di vista lavorativo, però vediamo ad esempio con l'italiano, vediamo in che settore finiamo, e come direi customer advisor, quindi supporto clienti, che possono andare dal digitale al turistico, social media, anche questo, vediamo, customer service, Lisbona, redazione contenuti, analisi di qualità ancora a Lisbona, eccetera, in questo caso mi interesso che, essendo madrelingua, posso lavorare in questo modo, la maggior parte di annunci di questo tipo, richiedono un inglese intermedio, la competenza madrelingua, è un diploma di laurea, tendenzialmente anche non specifico nel settore commerciale, dipende appunto sempre dalla tipologia, qual è il mio obiettivo di ricerca lavorativa, quanta flessibilità ho dal periodo, dal budget, insomma tutta una serie di variabili, altre dinamiche lavorativa sono ovviamente i siti aziendali, chiaro, mi interessa lavorare in un'azienda X, a cui ci arrivo per vari motivi, perché la conosco, perché ci ho già collaborato, perché mi piacciono i loro prodotti, eccetera, i loro servizi, in questo caso vado sulla pagina direttamente di carriera, o di opportunità vacanti, direttamente sul loro sito, perché molte aziende poi semplicemente non vanno su siti che raccolgono annunci, ma fanno esclusivamente selezione e raccolgono le candidature attraverso i propri siti. È utile anche fra i social network, il più utile inevitabilmente è LinkedIn, è che sicuramente funziona, funziona non per tutti i settori, ma per alcuni in particolare, ad esempio abbiamo fatto una ricerca su Bruxelles, dove tendenzialmente i tre quarti delle opportunità sono in lingua inglese, e c'è molto expat, cioè si lavora, c'è molto personale straniero, quindi non belga, che lavora per ovvi motivi, mettendo una parola chiave, che è quella di junior, che è legata al profilo, che magari può essere più vicino al vostro, da neolaureato o dalle primissime esperienze lavorative, quindi potete inserire junior, assistant, potete inserire nella lingua in cui intendete lavorare, anche nella ricerca delle parole chiave è utile. Anche in questo caso andate da risorse umane, assistente esecutivo, quindi il settore manageriale, marketing, analista, digitale, anche in questo caso Linkedin è utile, sicuramente per le aziende di medio-grande dimensione, ci sono e utilizzano molto Linkedin. I settori magari che coinvolgono aziende più medio-piccole, anche questo è un po' generico come discorso, però sicuramente ci sono alcuni settori che vanno, e che li vedete anche un po' qua, dal marketing all'executive, al manageriale, all'amministrativo, a tutto quello che ha a che fare con le lingue, con l'informatico, il tecnico, il digitale, i social media, sono sicuramente attività che su Linkedin sono tipologie di aziende che sono presenti, più facilmente lo utilizzano come canale di ricerca. Ad ogni modo c'è il motore di ricerca di Linkedin in cui vi ricordate, potete inserire anche la città che vi interessa, direttamente poi la parola chiave. Qua ovviamente è stato inserito il livello, quindi vai su diversi settori, però ovviamente se vi interessa una tipologia di settore specifico o di ruolo, inevitabilmente lo inserite poi nella lingua di destinazione o nella lingua di lavoro. Un'altra dinamica utile, magari mi interessa, posso fare anche un mio database di aziende, mi interessa lavorare nel settore, non lo so, import-export, posso andare a recuperare un annuario, le aziende di un'area geografica X o Y, non ce ne sono facilmente su internet, e andare a vedere tutte le aziende che lavorano in import-export in Danimarca o che lavorano con l'Italia, in questo caso andare poi sito per sito e ritorniamo qui a vedere se le loro opportunità sono presenti su siti aziendali e quindi sono presenti su siti aziendali oppure se si rifanno altri siti o se si rifanno anche ad agenzie interinali per la ricerca del lavoro e da antere, eccetera, eccetera. Camere di commercio anche, ma per adesso lo tralascirei non utilissimo, ma sicuramente qualche opportunità c'è. Ci sono anche i servizi pubblici o privati per la ricerca del lavoro, questo dovete saperlo, il portale Eures che abbiamo visto prima è la rete dei servizi per l'impego pubblici, quindi tutte le opportunità che viaggiano attraverso il servizio per l'impego pubblico e che sono aperte anche a persone non residenti sul posto, vengono appunto pubblicate sul loro sito. Ci sono anche i servizi per l'impiego locale, ad esempio io posso cercare lavoro in Germania anche sul servizio pubblico di impiego tedesco o su quello francese se lo cerco in flancia inserendo la parola chiave che mi interessa, vi faccio vedere al volo, ad esempio questo è il Polamploit, cerco opportunità per persone che parlano italiano, anche in questo caso ci sono le offerte, come vedete, in cui c'è questa parola chiave. Altra dinamica sono le agenzie interinali, queste sono molto utili se siete presenti sul posto. o anche a distanza, chiaro la candidatura può avvenire tranquillamente anche a distanza, ad ogni modo cercate la sede del posto, le più conosciute le trovate, ad ECO, Manpower, eccetera, eccetera, e vedete insomma l'estensione del dominio e poi della nazione di riferimento. Passiamo allora... Scusate se interrompo, volevo ricordare l'orario, Savino, siamo alle 15.45. Ok, sì sì, grazie Laura. Allora, apriamo una parentesi, qualche minutino in più, lo dedichiamo a Your First Air Job, perché finora abbiamo parlato di una ricerca che possiamo fare in maniera individuale attraverso diversi canali, entriamo in contatto con il datore di lavoro attraverso i canali che abbiamo visto, ci candidiamo, sosteniamo un colloquio ed eventualmente, se va bene, ci trasferiamo e iniziamo la nostra attività lavorativa sul posto, tutto in maniera o autonoma o a nostre spese, è chiaro. Esiste al momento un programma europeo che sostiene la dinamica dell'incontro tra domande e offerte lavorativa all'interno, tra cittadini europei, aziende europee ed è Your First Air Job. Your First Air Job appunto è un programma di supporto alla mobilità professionale. Essendo un programma europeo ci sono dei contributi economici per chi cerca lavoro in un paese europeo in cui non è residente e per l'azienda che assume un cittadino europeo che non è residente sul posto. Che tipologie di contratti supporta contratti di lavoro apprendistato del meno sei mesi o tirocino del meno tre mesi in un paese appunto in cui non siete residenti, paesi europei in cui non siete residenti, tra i 28 stati dell'Unione Europea e Islanda e Norvegia che hanno aderito. Per partecipare serve una cittadinanza europea a prescindere che sia italiano o meno e avere un massimo di 35 anni. Cosa finanzia? Ci sono dei contributi forfettari o a rimborso? Ci sono dei contributi per fare un colloquio all'estero, quindi un unatantum per il vitto viaggio d'alloggio a prescindere dall'esito del colloquio, un contributo per trasferimento. In caso di firma di uno di questi contratti, tipologia di contratto che abbiamo appena visto su, c'è l'opportunità, ti dicevo, un unatantum calibrata sul paese di destinazione più o meno fino a un massimo di 1400 euro che non va rendicontata essendo un unatantum forfettaria che noi utilizziamo per quegli investimenti che dicevamo all'inizio, quindi per il viaggio, per il trasloco, per trovare casa, per dare le capare, insomma, inevitabilmente sono degli investimenti da fare quando ci si trasferisce. Si può fare formazione linguistica sul rimborso, nel senso posso studiare francese se sto per andare a lavorare in Francia, preliminarmente e ottengo un rimborso fino a 2000 euro per un corso di... in questo caso è rimborso, significa che anticipiamo i soldi. Nei primi... ... ... è semplicemente un forfè, unatantum. posso ottenere anche, richiedere un rimborso per il riconoscimento dei titoli se per esercitare nel paese di destinazione, come abbiamo detto all'inizio, il datore di lavoro mi richiede il titolo riconosciuto sul posto. In questo caso posso fare una procedura con l'ente che abbiamo visto prima, l'ENIC, NARIC e anticipare il costo di riconoscimento dei titoli e poi farmi li rimborsare attraverso il programma di foster job. La stessa azienda ospitante può ricevere un contributo se mi assume e quindi strategicamente è importante perché nella ricerca di un'azienda a leva posso anche far leva su questo aspetto economico, una parità di candidatura assumendo me l'azienda può ricevere anche un contributo economico che devolve poi un inserimento formativo in azienda per me lavoratore e per un inserimento sociale, chiamiamolo così, ovvero supporto alla ricerca all'oggio o anche allo svolgimento delle pratiche burocratiche amministrative, sistema sanitario, fiscale, iscrizione, eccetera, eccetera. Qual è il portale? Allora, ci sono diversi percorsi o progetti attivi, in questo momento in Europa come vedete qua, c'è un progetto attivo a Roma in partenaria, sono centri per l'impiego pubblici in rete fra di loro, quindi c'è un progetto capofila in Roma in agenzia nazionale delle politiche dell'attività del mercato del lavoro Lampal, uno in Svezia e due in Germania. Per facilitarvi le cose potete utilizzare quello dell'Ampal di Roma in modo tale che avete anche possibilità di un supporto in italiano. bisogna registrarsi a questo sito, questo progetto dell'Ampal di Roma dovrebbe scadere ad aprile, se non sbaglio molto probabilmente verrà rinnovato, registrarsi al sito potete già vedere le opportunità disponibili, qualora non le troviate potete anche cercarle in maniera autonoma come abbiamo detto e poi diciamo potenzialmente associare l'azienda al programma però solamente se siete già iscritti. Brevemente per lavorare nelle istituzioni europee abbiamo visto nel primo seminario come fare tirocinio nelle istituzioni europee per lavorare nelle istituzioni europee a prescindere anche ovviamente in questo caso parliamo già di quelli di voi che hanno già un titolo conseguito l'unico diciamo l'ufficio europeo di istituzione del personale è l'epsto quindi c'è una dinamica centralizzata si recitano vari profili e in maniera più o meno cadenzata non ci sono dei momenti specifici dell'anno in cui ci sono delle delle candidature da punto di vista lavorativo da effettuare ma c'è da seguire una procedura di selezione che se superata vi permette di accedere a una specie di short list una banca dati all'interno della quale poi quando le istituzioni europee hanno bisogno istituzioni e agenzie europee hanno bisogno del personale da impiegare per diverse tipologie di contratti vanno direttamente a pescare una sorta di graduatorio diciamo di persone idonee a quella funzione i settori sono veramente variegati questi sono i principali giuridico economico amministrativo linguistico ricerca scientifico e anche i profili potete trovare gli annunci direttamente sul sito gli annunci insomma l'apertura dei bandi sul sito dell'epso che vi faccio vedere a breve o utilizzare portali utili come quello di eurodesk che in modo tale che vi segnala di volta in volta le opportunità che si presentano potete anche vedere i test nel senso sul portale dell'epso sono presenti delle prove delle simulazioni di prove quindi a seconda del profilo o del bando nello spesso vi fanno vedere anche una tipologia questo è il sito dell'epso per esempio gli esempi di prove ve li posso anche far vedere sono diverse figure dall'assistente che può essere una figura più vicina a chi di voi magari non ha grande esperienza lavorativa ma da neolaureato oppure degli amministrativi di base profilo generico insomma oppure fino anche ai linguisti interpreti chi di voi lavora con le lingue o per chi di voi ha intenzione anche di valutare opportunità di collaborazione temporane come gli agenti contrattuali torniamo a noi quindi portare Eurodesk sicuramente vi aiuta ovviamente non potete stare lì non è praticissimo monitorare tutte le istituzioni tutte le agenzie per capire quando aprono i bandi ma è molto più rapido magari vedere il portale Eurodesk in modo tale che di volta in volta trovate la scadenza con l'annuncio lo prendiamo al volo così magari vi faccio vedere un esempio pratico forse abbiamo troppo aperto troppe cose ecco qua raccoglio ovviamente anche tirocini che poi il portale è soprattutto opportunità rivolte ai giovani quindi da organizzazioni anche organizzazioni internazionali ma comunque vedete c'è la possibilità per i mercati della sicurezza europea le delegazioni europee il centro europeo di lingue moderne il segretariato ma le opportunità sono costanti chiaro è molto difficile perché le prove di selezione hanno un pubblico europeo però un'opportunità di questo tipo a livello di curriculum e soprattutto se vi interessa valutare o pensare a una carriera di questo tipo in ambito istituzionale pubblico internazionale affari pubblici affari istituzionali è sicuramente un enorme punteggio a favore in fase poi di creazione del curriculum ah vi faccio vedere in basso a sinistra vedete siccome scade domani vi segnalo solo che essendo studente universitario è un'opportunità che vi può interessare tanto c'è il bando per i tirocini diciamo negli organi di rappresentanza italiani all'estero rappresentanze diplomatiche uffici consolari istituti italiani di cultura scade domani purtroppo alle 5 ma non sono richieste delle grosse procedure di raccolta documenti quindi l'unica differenza questo è un bando annuale l'unica differenza è che per quest'anno non si tratta di vera e propria mobilità fisica ma i tirocini che vi vengono proposti nelle varie sedi in tutto il mondo di rappresentanza italiana sono tirocini a distanza Savino ci puoi ricordare dove l'hai preso perché all'inizio non si vedeva la condivisione sì allora dovrebbe essere tirocini crui punto it perché adesso vedo la eh sì esatto e tirocini crui punto it quindi nel senso quest'anno purtroppo a causa insomma di questa pandemia i tirocini trimestrali sicuramente un'ottima opportunità per quanto riguarda il vostro profilo e anche dal punto di vista di curriculum come esperienza tirocini trimestrali da fare a distanza purtroppo quindi quest'anno eh purtroppo insomma la mobilità è un po' sacrificata e nel periodo estivo scadono domani alle cinque dovete un po' raccogliere documenti e soprattutto in ambito quindi esami svolti titoli e curriculum e lettere chiudo eh facendovi vedere lo sportello mobilitas ehm all'inizio abbiamo detto che la scelta di fare mobilità all'estero in questo caso lavorativa ma anche per studio lavoro o per studio tirocini o anche volontariato è molto è una scelta personale ognuno di voi può avere un obiettivo personale più o meno proprio preponderante ognuno di voi ha delle competenze diverse in termini linguistici o altre ognuno di voi eh ha dei tempi a disposizione e dei periodi di disponibilità diversi ognuno di voi ha delle destinazioni papabili in mente che sono inevitabilmente diverse eh può esservi pertanto utile avere un supporto individuale o personale vi sarà utile sapere che c'è uno sportello gratuito messo a disposizione dallo Europe Diet da Regione Emilia Romagna in collaborazione con la cooperativa Uniser che offre appunto informazione orientamento e accompagnamento alla mobilità all'estero di varia tipologia attraverso dei colloqui individuali a distanza si prenotano attraverso un'agenda online registrandosi su questo sito che vedete mobilitasonline.net nel vostro caso qui vedete supporto alla mobilità c'è la possibilità insomma di di andare su un'agenda online e scegliere appunto l'ora e il giorno disponibili e poi si viene appunto richiamati per un colloquio con un advisor abbiamo finito con la presentazione perciò direi che possiamo prenderci qualche minuto per le domande che potete inserire sia in chat qui su Webex direttamente o attraverso poi Facebook sotto forma di commenti se facciamo in tempo nel frattempo vi faccio vedere al volo quali sono i prossimi appuntamenti allora come vi dicevo questo sul lavoro è il secondo seminario di 5 il primo è stato sul tirocinio il secondo sul lavoro in Europa prossimi a cadenza mensile si concentrarono sul volto del lavoro nel terzo settore diviso in due parti perché va su progetti europei quindi finanziati si offre opportunità in varie organizzazioni internazionali ONG sociale insomma le opportunità sono talmente variegate che lavoreremo in due parti e l'ultima invece a maggio sul specifico su opportunità di studio e formazione quindi da partire da studio per brevi periodi di tipologia linguistica o anche per universitario master di specializzazione Savino pensavo mentre aspettiamo le domande vi metteremo in chat anche un link di un questionario di valutazione potremmo farlo adesso intanto che aspettiamo le domande ho il link a portata di mano ah perfetto no no mettilo pur tu e vi mettiamo il link anche su Facebook se riusciamo e vi chiediamo di darci un po' un riscontro che a noi serve anche per orientare poi i prossimi incontri vediamo se riesco ok hai messo il link Savino ah sì perfetto allora nella chat trovate all'inizio il nostro scusate non mi viene la definizione giusta comunque il nostro profilo nome utente di Instagram e poi inizio a vedere delle domande allora intanto ce n'era una veloce su Facebook Savino che ci chiedevano se i colloqui di mobilità sono gratuiti sì 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 un servizio pubblico offerto in collaborazione con l'Europe Direct e l'Ulinser e Cooperativa Unise totalmente gratuiti sì perfetto poi sulla chat ci chiedono se esistono canali preferenziali in cui le istituzioni culturali musei fondazioni pubblicano offerte di lavoro ovviamente in Europa sì 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 ogni settore ce li ha ovviamente all'interno della macro area culturale ci sono diversissimi settori come ad esempio i musei per esempio e ulteriormente poi divisi in aree geografiche per esempio ci sono portali culturali che fanno solo musei a livello internazionale oppure portali che fanno solamente aspetti culturali in una nazione specifica per esempio in Belgio in questo caso come vedete essendo molto individuale tutto l'insieme delle variabili della ricerca del lavoro all'estero l'ideale sarebbe fare una chiacchierata a livello individuale e capire nello specifico quale o quali settori o quale o quale aree geografiche o anche competenze linguistiche possiede poi il candidato in questo modo ricevere poi personalmente una serie di canali ottimali profilati soprattutto in cui puoi ottimizzare la ricerca in modo tale da non perdersi poi su internet o spendere tempo sui generalisti dove l'opportunità utile è una su cento magari quindi sì nel senso il consiglio è magari se a modo voglia un appuntamento attraverso la piattaforma che vedete mobilitas e magari la rimetto allora Ignaz se abbiamo qualche domanda su Facebook puoi leggercela mi sentite si sentiamo ok allora intanto ho messo il link del form nel commento fissato in alto su Facebook per chi sta seguendo la diretta da lì e allora c'è una domanda che dice Savino per una persona che non ha la cittadinanza europea e che vorrebbe lavorare nelle organizzazioni internazionali avete consigli per alcuni siti di ricerca? allora innanzitutto non ci sono dei siti di ricerca lavorativa per cittadinanza ma inevitabilmente i siti tendenzialmente sono buoni per tutti l'unica dinamica è che quando i cittadini europei se si muove in un'azienda che ha sede in un paese dell'Unione Europea o nei paesi aderenti hanno facilità chiaro di movimento perché non hanno bisogno di una documentazione o di una dinamica di ricerca che invece è richiesta a un cittadino che viene da un paese non europeo cosa significa? beh è un po' la stessa dinamica che si presenta adesso per un cittadino italiano che vuole andare nel Regno Unito così come un cittadino non europeo che magari vuole venire in Italia ovvero ci vuole tendenzialmente non posso andare fisicamente sul posto a cercare lavoro a meno che ovviamente non sono già presente per altri motivi e ho dei permessi di residenza o di soggiorno particolari non posso andare sul posto a cercare lavoro ma ho bisogno di un visto un visto di lavoro per avere un visto di lavoro ho bisogno che ci sia un'azienda sul posto disponibile a ospitarmi si chiama lo sponsor fondamentalmente un po' la dinamica che ci starà poi in seguito alla Brexit quindi però se è un cittadino extra UE che però è già presente sul posto perché magari sta studiando qua sicuramente magari avrà un visto per studio probabilmente o un permesso di soggiorno che gli permette di studiare in Italia in quel caso in teoria non sarebbe autorizzatissimo a cercare lavoro perché il visto di studio ti dà la possibilità di stare sul posto per studiare però la presenza sul posto magari può aiutare perché poi la firma del contratto è una volta finito il visto di studio e la possibilità di lavorare te la dà e di stare sul posto te la dà un contratto di lavoro che magari se uno è presente già sul posto può più facilmente trovare e avere la sponsorship e quindi puoi restare in automatico altrimenti poi il visto di studio ha una scadenza entro la quale anche dopo il conseguimento del titolo ti dà la possibilità forse di cercare un po' di lavoro ma poi termina e quindi si è inevitabilmente obbligati ad andare via ad ogni modo i portali i canali e le informazioni a disposizione vanno a prescindere dalla vanno a prescindere dalla dalla nazionalità della cittadinanza ad esempio in questo caso anche un cittadino extra web che cerca lavoro nel Regno Unito avrà a disposizione tutta una serie di canali o di database che abbiamo anche noi a disposizione che possiamo offrire e in questo caso ed è equiparato tranquillamente a un cittadino non europeo un italiano come un extra web adesso cerca allo stesso modo lavoro in Europa fino a settembre per gli italiani e gli cittadini web basterà ancora la carta di identità però da dopo ci vorrà passaporto per andare sul posto ci vorrà uno sponsor ci vorrà un'azienda da cercare a distanza o disposta ad assumerci se non siamo già sul posto ok grazie un'altra domanda è vorrei avere delle informazioni per quanto riguarda i tirocini post laurea che offre Unibo ed eventualmente le possibilità lavorative di cui potrei usufruire una volta lavorato a breve tirocini post laurea offerti da Unibo allora sì ne abbiamo parlato nel primo seminario perché era sui tirocini appunto quindi la registrazione è disponibile anche sulla pagina facebook dove viene trasmessa questa all'ogni modo lì in quel caso c'è database Alma Laurea oppure c'è l'ufficio di rapporti interna l'ufficio tirocini di Unibo stessa in quel caso conviene rivolgersi di persona lì questo una volta conseguito il titolo Unibo però può al massimo fornire informazioni o annunci questo però soprattutto per l'Italia inevitabilmente parliamo dell'estero se sei ancora studente c'è la possibilità di partecipare al tirocini al bando di Erasmus per i tirocini all'estero che uscirà a breve fra un mese più o meno e in questo caso bisognerà guardare il bando però persone che sono ancora in corso di studio o non laureate entro se non sbaglio sei mesi dalla scadenza del bando possono partecipare a fare un tirocino all'estero anche col titolo conseguito però bisognerà leggere il bando che Unibo pubblicherà a marzo dovrebbe pubblicare a marzo ed è aperto per due mesi per quanto riguarda il lavoro all'estero Unibo non fa questo di lavoro tendenzialmente quindi come vi dicevo annunci magari se ci sono su Alma Laurea a cui siete inevitabilmente iscritti essendo studenti per opportunità all'estero che sono un po' in minor parte rispetto a a quella in Italia che comunque non sono da sottovalutare però sì un altro consiglio utile è capire poi il profilo specifico che hai e vedere magari se ci sono dei portali o delle dinamiche oltre a quelle dell'università stessa che non è proprio specializzata nel supportare i neolaureati a trovare lavoro all'estero magari quindi attraverso un colloquio con un advisor in questo caso potresti magari ricevere qualche informazione più profilata Savino aggiungo che la registrazione del vecchio seminario è anche su YouTube e ho messo il link nella chat e quindi lo trovate anche su YouTube ti leggo un'altra domanda che abbiamo nella chat ed è in merito alle opportunità di lavoro nel terzo settore in imprese sociali in Europa quali sono le destinazioni che offrono maggiori opportunità e quali sono i siti su cui poter ottimizzare ricerche in questo settore grazie ah allora per i siti sicuramente per avere una lista esaustiva c'è bisogno insomma di capire il profilo le aree geografiche le competenze il settore specifico ad ogni modo il livello generale il sociale è molto ampio il sociale va da da un'associazione che si occupa che ne so di ambiente fino al settore pubblico all'assistenza degli anziani al lavoro con l'infanzia quindi è molto molto variegato in termini non c'è una nazione specializzata o dove c'è perché essendo molto anche pubblico il settore di intervento no è difficile dire se c'è un'azione che occupa in ambito sociale almeno non ho questa tipologia di dato se c'è una nazione che più delle altre occupa in ambito sociale in questo caso se voglio lavorare in ambito sociale all'estero la prima dinamica che mi pongo la prima domanda che mi pongo è nel sociale cosa mi interessa un no profit un ambito pubblico che tipo di target bambini adolescenti marginali oppure settore pubblico settore privato insomma all'interno di tutte queste variabili poi vado sulle competenze linguistiche perché poi c'è molto lavoro in lingua nella madrelingua del posto e quindi questo fa già una gran selezione delle aree geografiche perché potrei dirti benissimo che magari la Germania ha un impiegato o una percentuale di impiegati in ambito sociale molto elevata rispetto agli altri paesi europei però magari non parli il tedesco in automaticamente oltre le opportunità non sono perché accessibili però ci sono dei portali specializzati c'è una lista specializzata c'è insomma attraverso mobilitas riesco a dare a precisa di a seconda calibrata sul settore specifico il suo area geografico area linguistica più specifica si riesce tranquillamente ad avere una lista di siti per profilare e ottimizzare la ricerca questo sì te ne leggo un'altra dei commenti di facebook Savino e suggerimenti per ricerca lavoro o tirocinio in Europa in ONG area progettazione ah allora area progettazione il consiglio è una ricerca un po' particolare perché non esiste un portale specializzato sui progettisti europei e il motivo è semplice perché a livello europeo il motivo è semplice neanche a livello nazionale è semplice perché la progettazione chiamiamola così insomma in maniera molto generica la può fare chiunque la può fare una singola organizzazione giovanile composta da tre persone fino a un ente pubblico a un'azienda privata a qualsiasi istituzione azienda in qualsiasi settore dalla formazione ma persino al marketing alla ricerca all'ambiente al sociale può accedere ai bandi europei cosa significa che all'interno di questo ente c'è una figura una o più figure che si occupano poi della cosiddetta di progettazione che in automatico ha un ampio raggio che va dall'inferazione fino poi all'implementazione e alla rendicontazione significa che non sempre la stessa persona che fa il progettista poi si occupa di tutte le fasi del progetto morale della storia come faccio a cercare un lavoro in progettazione europea in Europa allora un trucchetto utile può essere innanzitutto selezionare l'ambito di intervento perché un progettista europeo magari sa fare progetti in ambito sociale ma poi magari non li sa fare in ambito ambientale o non sa fare oppure in ambito infrastrutture o in ambito giovanile per esempio allora come faccio va c'è un metodo abbastanza semplice e banale che ne so mi interessa lavorare nel settore ambientale individuo il bando europeo che si occupa di ambiente nello specifico ad esempio live per esempio essendo bambi pubblici sono tenuti a pubblicare chi sono tutti gli enti beneficiari in ogni anno di tutti i progetti in quel modo io so a livello europeo tutti gli enti che hanno presentato un bando live o che l'hanno provato che ci stanno lavorando o che ci hanno lavorato so anche i loro partner e in questo modo capisco che tipo so già l'azienda o l'ente a cui rivolgermi perché poi potenzialmente qualsiasi ente o qualsiasi azienda potrebbe fare progettazione europea e quindi potrebbe avere una persona che nel proprio staff si occupa in maniera più o meno a tempo pieno della gestione o della scrittura del progetto perché poi non è una può anche non essere un'attività costante per quella tipologia di ente o di azienda e quindi significa che il personale magari temporaneamente fa quell'attività quando è richiesta e poi magari anche il resto del tempo svolge la sua attività normale spesso sono figure che già lavorano in quell'azienda e che magari si sono formate o si dedicano all'attività di progettazione temporaneamente quindi è molto difficile da cercare come opportunità lavorativa però per esempio un'attività utile può essere quella voglio lavorare nella progettazione nell'ambito giovanile allora vado a prendere i programmi di Erasmus per giovani che sono SVE per esempio vedo tutte le associazioni giovanili che lavorano con lo SVE o che hanno avuto progetti approvati in SVE so in automatico che c'è qualcuno che se ne occupa e che potenzialmente potrebbero cercare persone in quel settore gli annunci ci sono chiaro non sono però così comuni per il discorso che vi dicevo prima non è facilissimo trovare una persona che si occupa di scrittura di progetti per full time tutto l'anno quindi è anche difficile da intercettare come opportunità lavorativa leggo una domanda dalla chat se finirò un tirocinio in luglio settembre posso fare domanda per un tirocinio scusate se finisco l'università in luglio settembre potrò fare un tirocinio a partire da marzo a partire da marzo c'è scritto 2020 ma immagino che si intendesse 2021 ovviamente quindi è una questione di tempi se ho ben interpretato la domanda finendo l'università quest'estate o a settembre se si riesce a partire per marzo che poi diventa 2022 se si intende un tirocinio all'interno del bando dell'università penso Bologna insomma l'università a cui appartieni in quel caso le tempistiche sono vincolate dal bando nel senso vi dà delle tempistiche di candidatura e vi dà delle tempistiche obbligatorie entro cui svolgere il tirocinio se è ammissibile per bando va benissimo ma l'altra dinamica che ti tenere a mente è poi l'azienda nel senso una volta trovata se tu hai disponibilità da marzo in poi quando farai candidature su annucci li farai con sei mesi di differenza e magari l'azienda bisogna vedere se l'azienda ha disponibilità o immediata o al medio lungo termine e quindi è una questione che dicevamo anche prima di flessibilità nel senso in questo caso è una dinamica di domanda offerta lavorativa se c'è un annunzio tendenzialmente in tempi brevi quindi che ne so 15 o massimo un mese quella posizione viene selezionata però il bando per esempio dell'Università di Bologna ha dei vincoli particolari non è proprio una dinamica di ricerca di lavoro a mercato quindi inevitabilmente le aziende firmano un contratto di formazione un tirocinio formativo in cui accettano o meno le caratteristiche del bando e soprattutto magari sono più invogliate ad ospitare studenti per un tirocinio breve attraverso l'università perché non hanno l'obbligo di retribuire il candidato è anche un vantaggio per l'azienda ed è anche perché è un pochino più facile trovare un tirocinio con il programma Erasmus Placement il vecchio Erasmus Erasmus per tirocinio all'estero in realtà adesso sto rileggendo la domanda l'ho interpretata io ma lo capita io male cioè chiedono se uno può rispondere a una partecipare a un bando di marzo se si laurea a luglio bisogna guardare rispondo anche cioè bisogna proprio vedere di che bando si tratta nel senso che le caratteristiche dei bandi sono citate nei bandi e lì sono scritti requisiti di partecipazione per cui se c'è scritto che bisogna essere laureati ovviamente non ci si potrà candidare se invece c'è scritto che ci si può candidare anche se non si è laureati bisogna candidarsi quindi direi che non c'è una regola generale bisogna proprio vedere bando per bando pubblico privato che cosa dice l'annuncio o l'opportunità di tirocinio di tirocinio ah sì sì vai tu Ignazio facciamo una nella tua chat e una nella mia sì allora qui su Facebook chiedono per insegnare italiano in Europa con laurea in lettere non italiano per stranieri in realtà private dove si può guardare conviene conviene sempre rivolgersi a EURES per un colloquio Allora per un colloquio nel senso EURES ha dei dei EURES non è mobilitas nel senso sono due cose diverse anche se può essere affine come supporto allora EURES come abbiamo detto prima è una rete di servizi pubblici di servizi dell'impiego pubblico europei che hanno degli advisor specializzati sulla mobilità lavorativa ma le opportunità che vedete sono quelle che sono già presenti sulla rete EURES quindi mobilitas magari può darvi una mano se avendate sul settore un po' più specifici o più particolari che magari non viaggiano più facilmente sulle reti dell'impiego pubblico inevitabilmente sono i settori che abbiamo visto all'inizio quelli che più facilmente viaggiano sull'impiego pubblico l'insegnamento rientra inevitabilmente in queste allora lavorare in insegnamento in Europa è molto ampia come come richiesta perché inevitabilmente va capito le competenze linguistiche che hai e inevitabilmente in questo modo cambia l'area geografica di insegnamento la materia inevitabilmente cambia a seconda delle competenze che hai allora nel pubblico è tutto un altro discorso siccome la domanda sul privato allora tendenzialmente ci sono delle sono scuole bisogna capire anche a che livello di insegnamento anche chiaro quindi non possiamo andare molto nel dettaglio con queste informazioni però sì nel privato si può fare una candidatura a distanza più facilmente sfruttando la propria madrelingua in questo caso si va soprattutto in scuole di lingua quindi magari la più concreta che vedo è insegnare l'italiano in una scuola di lingue private dove si insegna italiano all'estero in questo caso una candidatura a distanza può essere anche efficace se cercano un madrelingua chiaro stando sul posto è sicuramente un vantaggio in più in questo caso chi avvia una carriera di insegnamento all'estero sicuramente all'inizio viaggia in ambito privato perché è più facile trovare lavoro e perché per entrare nel pubblico bisogna passare il riconoscimento del titolo e un concorso pubblico chi inizia questa dinamica va anche su insegnamento privato ripetizioni in questo caso se non c'è una materia specifica in cui si è in grado di insegnare lingua immagino sia la lingua italiana quindi ripetizioni private in questo caso andare su città più grandi sicuramente aiuta o di città in cui conosciamo la lingua del posto perché poi sicuramente un livello ci aiuterebbe a cercare lavoro però anche qui nel senso il panorama della domanda è veramente troppo ampio per riuscire mi sembra a dare delle indicazioni specifiche comunque sì sicuramente in ambito privato è più facile che l'ambito pubblico sicuramente se non abbiamo grande esperienza e se non abbiamo la possibilità di ricercare anche sul posto do per scontato che lì si parla di insegnamento di lingua italiana all'estero e quindi con queste dinamiche come si può cercare un altro consiglio utile per la ricerca in questo caso voglio andare a insegnare italiano a Dublino guardo tutte le scuole di lingua pubbliche o private dove si insegna italiano a Dublino e a una a una posso andare a fare candidatura o candidatura spontanea o risposta su annuncio perché so che lì si fa quell'attività e spesso molte scuole pubbliche hanno anche la possibilità questo ad esempio avviene anche in Germania hanno la possibilità di assumere una percentuale dello staff in maniera autonoma e privata per delle collaborazioni temporanee come ad esempio il lettore madrelingua anche dalle secondarie superiori in su però in questo caso la presenza sul posto inevitabilmente è più chiave abbiamo ancora spazio per una o due domande te ne leggo una per quanto riguarda opportunità di lavoro per europrogettisti ci sono dei siti dedicati è quello che abbiamo detto prima non c'è un sito dedicato per un europrogettazione ma una dinamica utile può essere capire andare sui bandi europei approvati vedere quali sono gli enti che hanno questi bandi hanno svolto che sono in corso di svolgimento vedere anche quali sono i loro partner ovviamente capire se il settore ci interessa o meno perché poi si può fare progettazione in tutti i settori lavorativi immaginabili e da lì risalire all'ente che se ne sta occupando e valutare se cercano una figura una figura di supporto perché poi nel senso da zero senza esperienza sicuramente il primo passo è fare da figura di assistente di coprogettista o in maniera totalmente autonoma su progetti in medio piccole dimensioni in questo caso sicuramente per esempio il programma Erasmus fra i progetti europei quelli di dimensioni piccole però andiamo in un settore educazione e formazione se questo è il settore di progettazione che magari può essere utile è vedere gli enti beneficiari di Erasmus soprattutto quelli privati perché poi c'è molte scuole pubbliche e questi andare a proporsi a loro non c'è comunque un sito riservato a europrogettisti né in una nazione specifica né a livello o tantomeno a livello europeo perché come dicevamo prima qualsiasi ente di qualsiasi dimensione pubblico di qualsiasi settore può potenzialmente fare progettazione o avere del personale che a tempo più o meno pieno può occuparsi di una delle varie attività della progettazione che vanno dall'ideazione fino alla rendicontazione finale amministrativa vai con l'ultima Ignazia se hai qualche domanda ancora abbiamo proprio l'ultima su Facebook esistono dei supporti economici europei per migliorare le proprie competenze linguistiche ad esempio l'inglese supporti economici per migliorare le competenze linguistiche dipende un po' da chi sei perché ci sono ad esempio all'interno di Erasmus per esempio il personale scolastico può fare formazione linguistica o all'interno di un ente si possono prevedere delle attività di formazione del personale gli studenti come potenzialmente il pubblico che ci segue in questo momento formazione linguistica con supporto economico pubblico non c'è almeno per quanto io ne sappia il programma io forse eurogiogo come abbiamo visto prima dà l'opportunità adesso lo riprendo dà l'opportunità di ricevere un rimborso economico per la formazione linguistica lo riprendo qua eccolo e va sul rimborso nel senso che è anticipabile di Tascano anticipabile di Tascano fino a 2000 euro dipende dall'ente gestore per esempio fino a qualche anno fa anche noi di Uniser avevamo aderivamo a io forse eurojob e davamo un rimborso linguistico fino a 2000 euro per una formazione in lingua o nel paese di residenza o nel paese di destinazione a prescindere se si aveva trovato lavoro o meno ma come fattore preliminare per aiutare e supportare la ricerca lavorativa potete chiedere in questo caso il portale che abbiamo visto prima io forse eurojob.eu l'ente gestore che in questo caso è l'AMPAL servizio pubblico per l'impiego di Roma la città metropolitana di Roma se la formazione linguistica il contributo che io forse da per la formazione linguistica è legato o meno all'aver trovato o meno un'opportunità lavorativa Savino a proposito di questo mi vengono in mente altre due cose ovviamente anche qui la risposta va un po' calata rispetto al livello di formazione di conoscenza linguistica che la persona ha già però mi vengono in mente da una parte i centri salto che forse non danno un supporto economico però ci sono delle realtà che per me che fanno fare dei corsi proprio dei corsi di lingua quindi attraverso correggimi se sbaglio Savino attraverso questi centri salto è possibile proprio trovare dei corsi ai quali si può partecipare con le spese coperte e poi ci sono anche delle esperienze trasversali che si possono fare se ad esempio partecipando a uno scambio giovanile che è un incontro di giovani in genere si parla in inglese in francese o in tedesco per cui anche quello può essere un modo spesato per esercitarsi praticamente nell'uso della lingua quindi anche qui le opportunità sono un po' tante come abbiamo detto tante volte vanno un pochino calate sulla persona per capire bene quella persona specifica di che cosa ha bisogno e cercare poi qual è l'opportunità più adatta per rispondere a quel bisogno ne parleremo nei prossimi incontri perché quello che hai detto si sono delle modalità in cui chiaro non si va prettamente a fare formazione linguistica ma sono delle opportunità finanziate che si va in ambito insomma di volontariato o formazione in generale da programmi tendenzialmente può essere Erasmus nella maggior parte di casa che vi permettono di vivere dei momenti all'estero in cui praticare 24 ore su 24 la lingua di lavoro che è la lingua inglese all'interno di corsi di formazione specifiche qualsiasi settore dall'ambiente dalla cultura insomma veramente qualsiasi settore in lingua inglese con dei formatori e quindi più che studiarlo per una certificazione l'inglese in quel caso sono delle modalità senza costo per praticarlo oppure momenti di volontariato anche in questo caso finanziati da bandi europei all'estero con stranieri totalmente in lingua inglese con tematica X ma con lingua veicolare lingua inglese sì anche il tirocinio stesso che si fa attraverso l'università all'estero se si fa in lingua inglese o si va in un paese madrelingua inglese o anche in un paese madrelingua inevitabilmente l'esperienza professionale in lingua inevitabilmente non è il motivo principale ma inevitabilmente aumenterà col tempo il nostro livello di incompetenza linguistica e la presenza sul posto quindi la quotidianità poi da vivere sul posto per il periodo di medio lungo termine di durata vicino dell'esperienza lavorativa all'estero inevitabilmente ci fa aumentare la nostra competenza di inglese non è un momento formale non ci dà identificazione ma dà un'utilità sicuramente pratica benissimo io direi che a questo punto possiamo chiudere ricordo che oltre potete seguirci oltre che su Instagram e su Facebook anche attraverso la nostra newsletter che si chiama Monitor Europa vi abbiamo messo in chat il link per iscrivervi e attraverso la quale potete rimanere aggiornati su varie tematiche di attualità europea e rispetto a tutte le cose che organizziamo se Savino non hai niente da aggiungere visto che c'erano molte domande personalizzate o individuali per forza di cose se avete voglia e modo un colloquio individuale vedete in schermata potete prenotarlo e in quel caso anche avere semplicemente una lista di canali profilati o due consigli specifici calibrati sul nostro profilo può essere una chiacchierata utile benissimo ringrazio tutti per la partecipazione Savino per l'organizzazione e tutte le informazioni prestosissime che ci ha dato ringrazio anche chi dietro le quinte ha fatto un po' di assistenza a questo seminario e appunto ci vediamo il mese prossimo col tema volontariato grazie a tutti buona serata a presto a presto a presto a presto